Buongiorno, sono Giuliano Pierucci, presidente di Abbie, l'associazione italiana Blockchain Imprese e Denti. Voglio dire due parole a proposito del digitale, innanzitutto sottolineando che ormai non dovremmo più parlare di digitale, ma dovremmo parlare di digitale evoluto. Quindi un passo in avanti fondamentale per dotare i cittadini, la società, il mondo della pubblica amministrazione e delle imprese di strumenti fondamentali per ottimizzare i costi e ottimizzare anche i servizi che vengono forniti.